Bentornati sul canale di questo blog, io sono Gons e oggi siamo qua a fare la recensione di Il Bucco E l'Oio, film di Galder Gaztelu Urrutia, cioè fate voi Regista basco esordiente, incredibile quanti esordienti ultimamente stanno tirando fuori cose pregevoli Un horror fantascientifico che si presenta come una metafora del livore che si genera tra le classi sociali E' una pellicola che trae chiaramente ispirazione dal cortometraggio di Denis Villeneuve, Next Floor Vi lascio il link in descrizione per vederlo, è un cortometraggio molto carino che se avete visto Il Bucco Riuscirete a capire come mai è così tanto collegato a questo film Tra ispirazione da Next Floor appunto ma anche molto dal film Cube di Vincent Natali Vincent Natali che tra l'altro è tornato da pochissimo sulle scene proprio su Netflix con Nell'erba alta Che è un film che comunque ho recensito e che trovate qua sul canale di recensione non vi dico altro La sceneggiatura è di Pedro Rivero e David Desola e questi due sceneggiatori sono altrettanto talentuosi Perché la storia è scritta molto bene, i dialoghi sono scritti molto bene e i personaggi sono caratterizzati nel modo giusto Diciamo per quelli che sono i tempi stretti di questa pellicola perché poi non è neanche lunghissima In uno scenario diciamo soffocante soprattutto in questo periodo in cui siamo tutti in quarantena isolati per il coronavirus Questo film diciamo che direi che è più che azzeccato Goren, il protagonista interpretato dal bravissimo Ivan Massague Ivan Massague, spero che si dica così Il protagonista si risveglia in una prigione verticale Ogni piano ha una cella, ogni cella ospita due persone Una piattaforma del cibo attraversa una cella dopo l'altra fino all'ultimo piano, all'ultima cella Non si sa bene quante celle ci sono Chi è in alto mangia di più La piattaforma rimane due minuti per piano Chi è in alto riceve ogni sorta di lecornia e piatto cucinato da chef di altissimo livello E pian piano che la piattaforma scende non rimane quasi niente Finché appunto poi a un certo punto non rimane proprio niente da mangiare Questo fa sì che la fame sia il problema principale di questo posto Nessuno può ottenere quello che viene messo sulla piattaforma Hai solo due minuti per mangiarlo? Se tieni qualcosa, vabbè, poi scoprirete poi il film Ogni mese i detenuti vengono addormentati e viene cambiato loro il piano Quindi un mese sei nei piani alti e un mese sei nei piani bassi Questa casualità rende ancora più terribile la socialità, il rapporto tra le varie celle Che tra l'altro si possono parlare perché la piattaforma passa attraverso un buco Dove tutti possono vedere sopra e sotto le altre celle Nel film viene chiamato La Fossa La Fossa Questo luogo terribile Un universo distopico Che diventa terreno fertile per propagarsi dei peggiori istinti umani In primis l'egoismo In questo periodo mi viene da dire Ogni cella è lo specchio delle nostre abitazioni I muri sono uguali E ci impediscono di conoscere i nostri vicini Di sapere le loro difficoltà, chi sono Insomma, umanizzarle Finché ci sono i muri, noi pensiamo a noi E quello che succede agli altri non ci interessa Il compagno di cella è la metafora della nostra famiglia probabilmente Ci vai d'accordo o non ci vai d'accordo Ma è l'unica persona di cui ti interessa che cosa farà E come lo farà la sopravvivenza o la non sopravvivenza Mentre tutti gli altri sono assolutamente nemici È impossibile in questo contesto costruire un senso di comune Di civiltà, di senso appunto di società Un luogo dove il bene comune non esiste Esiste solo l'interesse personale Mi viene da dire l'esatto opposto di quello che accade ad Arga Nel famoso villaggio dove vive questo popolo Arcaico quasi Nel film di Ari Aster Midsommar Invece in questo villaggio Tutto il contrario Il bene comune è più importante del bene personale E tutte le emozioni e i dolori e i dispiaci Ci vengono condivisi da tutti quanti Insomma Ho l'impressione che entrambi i film parlino dello stesso argomento Cioè la mancanza di empatia con la società e con gli altri Ma lo fanno in modo molto diverso Lo fanno in modo molto diverso perché Andando ad analizzare meglio il buco Troviamo un personaggio che rappresenta il messia Che è il protagonista Che prova in diverse maniere A smuovere gli animi degli altri detenuti Per far sì che ci sia cooperazione Per il raggiungimento di uno scopo e un bene comune Cioè quello che il cibo partendo dal primo piano Arrivi fino all'ultimo Quindi evitando che la gente Tra i piani più bassi muoia di fame Ma ovviamente non avendo risposta Saranno diverse le cose che emergeranno E i tentativi che il protagonista attuerà Saranno sempre prevaricatori e violenti E sembreranno anche avere un certo effetto Quindi quello che sembra quasi questo film Sembra quasi voler dire Che l'umanità da sola non può assolutamente Far nascere un senso di amore per il prossimo spontaneamente Ci deve essere sempre qualcuno Una sorta di messia, un leader Che prende per mano le persone Che da sole non sono in grado di vivere l'uno per l'altra Quindi in questo film un po' c'è questa metafora Di Gesù Cristo, del martire, di Gesù, del messia Infatti lo trovo un film abbastanza Con delle connotazioni religiose abbastanza forti E che ti fa riflettere sul fatto che la religione Appunto per anni è sempre stata Un collante sociale E che guarda caso oggi che è meno forte C'è anche un maggior individualismo Detto ciò io non difendo assolutamente la religione Anzi sono abbastanza contrario alle religioni Però un po' il film sembra un po' venderti questa cosa qua In generale il film è bellissimo Il film è veramente bello È recitato bene, è diretto bene Scenografie stupende Sembra quasi veramente non fallire mai Non peccare mai in nessun punto Tranne forse secondo me in un finale Per quanto giusto e coerente con la trama Un finale che avrei preferito fosse un pochino più sofisticato E al livello del resto dell'opera Non entro poi troppo nel dettaglio Perché non voglio spoilerare È un film veramente veramente sorprendente Pensare che sia arrivato su Netflix Così in sordina Quindi senza nessun annuncio particolare È la dimostrazione di quanto il cinema horror fantascientifico Sia bistrattato da tutti sempre E questo è un film invece che con il passaparola farà il botto Perché è veramente un bel film E le cose belle prima o poi emergono Grande film, consigliatissimo Uno tra i migliori film che possiamo vedere sulla piattaforma Netflix In esclusiva Quindi per quanto riguarda l'horro Quindi ve lo straconsiglio Che altro vi posso dire? Questo regista di cui non so neanche pronunciare il nome Ora ci riprovo Galder, Gazzdelu, Urrutia Questi sono i nomi baschi Probabilmente che sono così complicati È da tenere d'occhissimo Ma non solo lui secondo me Anche i due sceneggiatori Pedro Rivero e David Desola Sono due sceneggiatori da tenere d'occhio Si occupano spesso di horror E spero che insomma Possano tirare fuori altre idee così brillanti Questo è tutto per la recensione del buco Che poi il titolo in inglese Quindi penso negli Stati Uniti Il buco The Platform O L Oio È un bellissimo horror fantascientifico Ve lo consiglio E basta Se il video vi è piaciuto Iscriviti al canale Cliccate like Lasciatemi un commento Se l'avete visto E ditemi come vi è sembrato E ci vediamo al prossimo video Ciao 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 Ciao